Ciao ragazzi al vostro Scanet95, bentornati in questo nuovo episodio, in questo nuovo video, un video che esce dopo tanto tempo, dopo tanti problemi, dopo l'assenza di Scanet da YouTube e è un'assenza che ripeto è sempre giustificata, ok, perché il mio YouTube è il mio passatempo e non avendo un scopo di guadagno io lavoro, io lavoro, io faccio tante cose e quindi sono a lavoro e sto registrando questo video quindi, che cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che quello che è successo con Farmy Simulator 22 Premium Expansion non va bene, non va bene perché, allora il nostro filotto, ok, quello che ho avuto con Black Theo praticamente era un filotto logico, ok, in realtà la casa madre se ne è uscita con le solite cose d'arcade e non va bene, non va bene perché le carote, ok, sono carine ma non ha molto senso farle in questa maniera anche perché quelle che vengono fatte in questa maniera sono, diciamo, in fase ridotta quindi ormai la carota viene prodotta in serra e questo non per chissà quali esigenze o quali motivi ma semplicemente perché il clima, ok, quello che stavo dicendo è che il fatto che il clima che sta cambiando notevolmente, che ha scombustolato tutto, queste cose sta portando molti agricoltori a utilizzare le serre come sistema di, diciamo, produzione principale perché il campo non sai più quanto ti rende in serra, beh, non male la resa te la fai da solo quindi, è vero, il prodotto non sarà mai che hai come quello naturale però sostanzialmente hai più rendita e io pensavo che fossero, diciamo, prese in considerazione queste cose perché, ripeto, su farmi insieme un editor 22 manca il mercato su farmi insieme un editor 22 manca il terreno dinamico su farmi insieme un editor 25 non ci sarà il terreno dinamico e niente, andiamo avanti così, continuiamo ad andare avanti così io non so più cosa dire perché, appunto, dopo quanto visto, quanto hanno fatto mi sono completamente dissociato dissociato perché non ha più senso spendere del tempo per montare dei video per immaginare milioni di argomenti sensati e poi loro se ne escano con le solite stronzate perché queste sono stronzate ragazzi, parliamoci chiaro cioè che tu, per levare un chilometro e mezzo di carote che te le leva, fra l'altro, a file di tre ok, quindi, sacci pur giorni non hai un mezzo automatico non hai un mezzo automatico con l'immagazzinamento è vero sì, nella realtà funziona così, ok ma allo stesso tempo te lo vuoi rendere arcade e poi fai il macchinario che ti leva tre file di carote allora, che ci devo stare a giorni se io ho un campo enorme e lo pianto a carote ci devo stare a giorni per levare le carote cioè, ma dai, non posso neanche metterci l'operaio perché l'operaio, diciamo, il carrello e il trattore lo comanda, ma non sul campo cioè, ma ragazzi, ma davvero ma casa madre, ma dove siamo finiti? cioè, siamo finiti a tutti quelli che ti dicono cosa vogliamo e fare nel simulare del 25 e le richieste sono sempre le solite vogliamo il terreno dinamico vogliamo un nuovo motore grafico e vogliamo qualcosa che sia agricolturale e qui l'agricolturale non continua a non esserci niente continua a inserire cose con i dettagli che però lo rendono arcade cioè, poi tutte le stronzate che tirano fuori questi, questi, quell'altri cioè, nelle richieste, ok ora, ma io dico, no ma con che criterio io posso sentire una persona dire voglio il terreno dinamico attivabile o non attivabile ma stai scherzando, vero? cioè, ma ma siete qua siamo partnership giants quindi abbiamo accesso ai contenuti e abbiamo accesso a quello che loro vogliono fare o tanto siamo partnership giants e poi le cose le immaginiamo lo stesso perché non puoi fare un terreno dinamico attivabile o disattivabile il terreno dinamico è il terreno del gioco è il motore grafico del gioco cioè, è inutile volete il motore grafico nuovo ma se hai il terreno dinamico hai anche il motore grafico nuovo perché per fare il terreno dinamico non puoi più usare Giant Sator ma devi usare un nuovo engine quindi, ok lo fai con un real engine e il gioco va bene lo puoi fare il terreno dinamico ma non può essere già attivabile perché che fai? fai due terreni uno tavola piatta e uno dinamico allora che senso ha fare il terreno dinamico? continuiamo a farlo a tavola piatta e festa fatta cioè ma ma dove le tirate fuori le idee? dove cosa vi ragiona il cervello? cioè non capisco io veramente non capisco dove si vuole arrivare volete arrivare a avere un gioco ricordurale? cambiate gioco perché fai un insieme a 22 non è un gioco agricolturale è un gioco arcade volete un gioco agricolturale? giocate a Catalan Clubs difetti quanto vi pare non completo quanto vi pare ma è un gioco arcade cioè non è un gioco arcade è un gioco agricolturale è simulativo eh c'è il terreno dinamico ci sono i mezzi che hanno le funzioni puoi erare il campo scavi quando eri il campo semini in maniera realistica ci sono le pozzanghe l'acqua ha l'effetto sul terreno ci sono quelle condizioni che deve avere un gioco di agricoltura e invece qui non ci sono le condizioni di agricoltura su Farm in Simulator 22 ma ci sono le classiche stronzate dell'arcade allora mi sono rotto le palle non sto più giocando Farm in Simulator non sto più giocando in generale ok ma non mi verrà mai e poi mai più voglia ok di giocare un gioco che io ritengo dovrebbe essere il gioco numero uno sul mercato perché con tutto il potenziale che avete potreste fare il gioco veramente che dominerà il mercato per sempre e invece no ma il problema ok sorge quando te crei delle cose le fai le spacci per chissà che cosa e poi in realtà sono le solite cazzate e le persone ci credono rimane lì il problema il problema che se te crei delle stronzate e le persone te le comprano e te continui a creare le stronzate e te ne sbatti le palle del prossimo gioco di spendere milioni per fare un engine nuovo te ne sbatti altamente le palle il prossimo Farm in Simulator sarà sempre con Giants Editor perché la Giants non può fare un editor per conto suo come un real engine con un real engine quindi il motore grafico se usi un real engine non lo puoi più chiamare Giants Editor ok e non lo puoi chiamare neanche Giants Engine ma è la real engine che è già una cosa strutturata cioè se la Giants vuole un motore grafico nuovo o ti fai un nuovo editor da capo quindi spendi milioni 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 e crei un editor da capo che l'editor sia in un real engine ok magari lo puoi chiamare Giants Engine ok quindi applichi le tue modifiche al engine normale lo espandi e gli crei un modello 3D ma senza questo qui non si può fare e Giants Engine non supporta i modelli 3D ora è inutile che mi venite a dire se i miei modelli 3D ci sono ma non c'è il 3D del suolo non c'è il 3D del suolo il suolo è 2D ma ci si arriva il 2D due dimensioni non tre dimensioni e allora è inutile se non si sanno le cose bisogna stare zitti zitti muti muti basta perché è inutile è inutile ok continuare a dire bello si su giù la quando la base è sempre la solita e quando non avete ancora capito che nel prossimo gioco sarà tutto uguale perché la Giants non spenderà mai milioni e milioni e milioni per rifare le engine non lo farà o viene qualcuno che gli dice ok noi ti deriviamo l'attività e usiamo cambia tutto cambia tutto ok assorbono la Giants e allora a quel punto lì ognuno fa come capo di rifare perché la Giants non ha più il pieno diritto perché se arriva una ditta che ti assorbe te ti compra e ti dice ok Giants te fai il prossimo gioco ma come dico io quindi usi Giants usi la Real Engine perfetto ma avete idea che cosa sarebbe un farming simulator con la Real Engine sarebbe un gioco agricolturale sarebbe un gioco come Cattle & Clubs perché Cattle & Clubs non è la Real Engine ok ma è già un Engine 3D e invece Giants non lo fa e che cazzo e basta con queste stronzate io mi metto anche nei panni di tutti voi che state continuando a tirare fuori mappe che dedicate tempo tempo spazio ma che poi per esempio la mappa toscana colline toscane colline toscane mappa pianeggiante ma che cazzo ma che cazzo proprio sinceramente non esiste non puoi fare una collina e non ci puoi fare il campo sopra la collina il campo è 3D una collina 3D una collina che te con la benna se vuoi levare la terra la levi non lo puoi fare è inutile che rifasciate il capo è inutile che volete fare chissà che cosa basta basta con queste idee senza senso qui Skynet si risorsa al 100% da tutti quelli che sono stati di upgrade e quelli che saranno ok anche se non ce ne saranno più molto probabilmente di upgrade vi goderete questo farming qui che va comunque è rimasto sempre il solito quindi si tanti aggiornamentini tante cose ma di quello che il concreto non c'è godetevelo io smetto smetto farò un video fra 5 mesi fra 6 mesi quando mi andrà o quando potrò e come al solito la sincerità di Skynet non la trovate a giro perché se io sono partnership di Giants non posso andare contro la Giants ma io non sono partnership di Giants e andare contro la Giants posso a prescindere perché il gioco fa cacare e te lo dico io che so di culture quindi fa cacare ciao